E' mercoledì 2 settembre, buongiorno, è il primo appuntamento della giornata con l'informazione di Telemulisi. In apertura parliamo della carenza idrica di acquedotto molisano centrale, acqua alla Puglia ed emergenza. Incenti sono argomenti su cui è intervenuto l'ex consigliere regionale Salvatore Ciocca che chiede interventi urgenti e risolutivi. Inoltre invita a tenere alta la guardia sul fronte dell'acqua alla Puglia e dei mancati ristori alla regione. Sentiamo Tonino Danese. La carenza idrica nel periodo estivo rappresenta un problema, in particolare in Basso Molise, dove anche quest'anno ci sono stati forti disagi per la popolazione residente e per i turisti. L'ex consigliere regionale Salvatore Ciocca si è occupato della materia quando era appunto in consiglio regionale e ha voluto fare alcune considerazioni in merito. Ogni anno le cose purtroppo stanno peggiorando perché le precipitazioni sono sempre in meno. E il discorso del molisano centrale, ormai opera incompiuta, che che se ne dica, doveva essere completato nel 2007, siamo al 2020, sono 13 anni e doveva servire per portare l'acqua disorgente nel Basso Molise. Non solo non la sta portando nel modo giusto, ma sentire in questi giorni di carenza idrica, che addirittura si pensa di collegarlo con il ramo sinistro, quindi dell'acqua dell'area del Trigno, della zona del Trigno, è veramente una grossissima corbelleria perché l'acqua è sempre la stessa. I problemi sono di due tipi. Il discorso di approvvigionamento dovrebbe aumentare e poi tutte le nostre reti dei comuni, allo stesso modo quelle del Basso Molise, ormai sono del colo a brodo. Abbiamo una dispersione che va dal 50 al 65%. Alla luce degli incendi degli ultimi giorni, che hanno flagellato anche ampie zone in Molise, Ciocca ha fatto notare degli aspetti importanti per quanto riguarda gli interventi in emergenza. Nel momento in cui manca l'acqua potabile nelle case, è chiaro che non ci sta la possibilità di approvvigionare acqua per spegnere gli incendi, ma i comuni dovrebbero dotarsi, e la protezione civile dovrebbe essere in questo senso coinvolta, di alcuni depositi che dovrebbero essere specifici, specie nei comuni tipo Campomarino, che ogni anno è soggetto a decine e decine di piccoli incendi, ma sentire che non c'è acqua per spegnere li mette a rischio l'incolumità delle persone. Ci sono delle serie di responsabilità anche dei sindaci. Resta aperto il dibattito sull'acqua che dal Molise viene erogata alla Puglia, con la conseguente questione dei mancati ristori, una vicenda per la quale Ciocca si sta battendo in prima linea insieme ad altri cittadini del fortore e su cui non molla. Innanzitutto va avanti l'acqua che scende a valle costantemente, nonostante in questo periodo ce ne sarebbe bisogno anche per noi in Molise. Quindi innanzitutto sembra che ci sia un fermo anche da parte della nostra amministrazione regionale, nessuno ne parla più. Voglio sperare che sia un po' colpo merito delle vacanze o delle elezioni in Puglia che a breve ci diranno se resterà Emiliano o ci sarà un nuovo Presidente. In ogni caso bisogna riprendere con forza questo discorso, proprio in ragione di quello che ci siamo detti. L'acqua diminuisce, diminuirà sempre di più, quindi dobbiamo cercare di usare meglio quello che c'è e di aumentarla, ampliarla e soprattutto di usarla per il Molise in primis. Mi dispiace dirlo, ma se non è ai fini potabili, prima al Molise e poi agli altri. E quantomeno quello che si dà deve avere un corrispettivo che al momento ci stanno negando da oltre 50 anni. Ed è stata una giornata positiva quella di ieri sul fronte dell'emergenza coronavirus in Molise a fronte di un numero molto elevato di tamponi processati. Sono stati ben 305. Non si è registrato nessun nuovo caso positivo. Gli attualmente positivi in regione restano dunque 73. Sono invece tre le persone ricoverate in ospedale. Ed ora spazio alla rubrica Le parole della medicina a cura del dottor Italo Marinelli, dirigente pediatra presso l'ospedale Alto Chiascio in Umbria. Oggi ci parlerà del ruolo dei bambini nella diffusione della pandemia da SARS-CoV-2. Sentiamo. Buongiorno. Il tema che sta dominando la discussione pubblica è la riapertura delle scuole. Io oggi non voglio entrare nel merito, ma semplicemente riportare quello che dice il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie riguardo alla pandemia e dai minori. Sono dati relativi a circa dieci giorni fa che analizzano l'andamento epidemiologico, in particolare il ruolo che hanno avuto i minori nel corso della pandemia. Bene, solo sei nazioni hanno registrato focolai di infezioni nelle scuole, molto limitati sia in numero e con pochissimi casi secondari. C'è stato un solo vero e proprio cluster in una sola nazione di 13 casi, 4 studenti e 9 adulti. Quindi diciamo che la trasmissione nelle scuole è stata un'eccezione più che la norma. D'altra parte però va ricordato che le scuole in larga parte erano chiuse. Un secondo punto che il Centro europeo per il controllo della diffusione delle malattie sottolinea è che sotto i dieci anni il ruolo epidemiologico svolto dai bambini nella trasmissione delle infezioni è veramente limitato, sia in termini di suscettibilità che di trasmissibilità della malattia. Le cose cambiano a partire dai dieci anni in su. I bambini più grandi possono avere un ruolo più importante. Il terzo punto che l'Agenzia sottolinea è questo. Sulla epidemia da SARS-CoV-2 ci sono pochissime certezze, però una cosa è sicuramente certa, che i bambini non sono stati i responsabili della trasmissione della pandemia. E' che d'altra parte i bambini soffrono e soffriranno di un'eventuale chiusura o ritardi nell'apertura delle scuole non solo in termini educativi, ma anche in termini proprio di rischi di salute e di maltrattamento, rischiando di avere danni permanenti. Ecco, questi sono i fatti. Ed è tutto per il nostro Tg del mattino. La nostra rassegna stampa adesso che iniziamo come di consueto andando a vedere i titoli sul giornale del morise.it. L'apertura coronavirus processati, 305 tamponi tutti negativi, nessun nuovo caso in regione. Poi si torna sulla notizia delle due vittime sulla statale 87. Sepinese muore il giorno del compleanno della figlia, indagini per omicidio stradale. Ancora Molise alla scoperta dei territori Arbresce. Oggi si parla di Monte Cilfone. Poi da Isernia personale di Carlo Schiff nello spazio Arte Petrecca. Questura di Isernia Pasquale Marcovecchio, nuovo dirigente della Digos. E poi c'è il caos ticket agli sportelli della ASREM. Per quanto riguarda la non diminuzione del ticket che doveva partire dal 1 settembre, il direttore generale Florenzano precisa che è colpa di Molise dati. Abbiamo dovuto risolvere manualmente, ha detto il direttore generale. Poi ASREM si è insediato il nuovo direttore amministrativo Antonio Lastoria. Futuro Molise, l'apertura, riapertura. A scuola in Molise il presidente della regione Toma dice ad oggi la data del 14 settembre è confermata. Piantagione di Mariana scoperta dai carabinieri a Colletorto. Arrestato un 44enne, anche qui la mostra di Schiff ad Isernia. E poi scuola, UE-Coop in Molise. Una famiglia su tre non dispone di un accesso internet. Poi da Messina, Isernino Giustino Duva ha preso parte alla traversata a nuoto dello stretto. Vediamo adesso il quotidiano cartaccio. Primo piano Molise in edicola oggi. L'apertura è sul quanto avvenuto per i super ticket. Abolito ma non in Molise è falsa partenza. In realtà ci sono stati problemi perché c'è una sorpresa al CUP, il centro unico di prenotazioni, agli utenti che ieri mattina si sono presentati per l'erogazione delle prestazioni è stato chiesto di versare anche i 10 euro, cioè quelli che da ieri non ci sono più da pagare sul ticket. Software non ha aggiornato questo il problema. PD e 5 Stelle attaccano Molise e Dati ed Asrem. Florenzano, il DG dell'Asrem, dice chi ha pagato sarà rimborsato, non è colpa nostra. Ha parlato appunto di errore di software. L'editoriale di Luca Colella, Piedimonte, De Luca e il super ticket. Poi strade insanquinate, schianto tra Sepino e Daltilia, lotta tra la vita e la morte. Il 28enne ricoverato al Cardarelli viaggiava con la madre. Poi il bollettino coronavirus, positive ovviamente tra virgolette le ultime 24 ore per il Molise. Nessun contagiato su 305 tamponi. Cala anche il dato nazionale con 978 casi. Scorriamo, andiamo a Termoli. 43enne trovata morta in casa, la procura dispone l'autopsia e poi cerce maggiore. Il paese si ferma per salutare Christian, i funerali al campo sportivo. Anche questa notizia d'esta preoccupazione. Anziana sparisce nel nulla. Task force per le ricerche. In volo pure due elicotteri. E poi dai segni a follia le piane. Esplode colpinaria, poi minaccia di farla finita. Campo basso, tradizioni folcloristiche. La professoressa Socci, nominata tutore. Per lo sport, l'Ubi, il diciottenne Naldeo in avanti. Capitolo Sforzini a fondo decisivo nelle prossime ore. Testa amichevole contro il Fasano. In programma domenica per il basso Gilardi. Calcio a 5. La sciamina e lo SP Penafro attive sul mercato. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani nazionali. Partendo come di consueto dal Corriere della Sera. Ovviamente quanto avvenuto in Parlamento in evidenza. Per quanto concerne la politica a governo fronta dei 5 stelle. Questo è il titolo del Corriere. 50 deputati in movimento contro la proroga dei vertici degli 007. Posta la fiducia a Bagari in aula. Persi intanto per quanto riguarda il lavoro e l'economia. 500 mila posti di lavoro. Ma a luglio dati in ripresa. Calano i contagi. Fotonotizia dagli Stati Uniti. Gli agenti sparano ancora. Trump in difesa della polizia. Colpito a morte un altro afroamericano. Attenzioni a Los Angeles. Dal Corriere della Sera andiamo a vedere la prima di Repubblica. Che apre così meno tasse sul lavoro. Perché il piano del governo prevede taglio di 2 miliardi del cuneo fiscale. Grazie al nuovo assegno unico per le famiglie. Primo segnale di ripresa a luglio. 85 mila occupati in più. Le previsioni. La svolta ci sarà solo tra un anno. Siluro Movimento 5 Stelle sull'intelligence. I sospetti del premier su Di Maio. E poi a centro pagina fotonotizia. Pino rimuove l'opera dell'artista femminicida. Dunque questi i titoli principali su Repubblica. Andiamo a vedere anche quelli del Fatto Quotidiano. Apertura in evidenza. Tutti i giornali contro la riforma. 4 italiani su 5 per il sì. I poteri forti per il no. Ovviamente si parla di sì e no al referendum. Chi vota sì vota per la riduzione del numero dei parlamentari. E poi in basso fiume la carta del Carnaro. Salario Minimo. L'idea del Vate Influencer. Dal Fatto Quotidiano. Vediamo anche la prima pagina della stampa. Andiamo a vedere i titoli. Dunque la tragedia dei nonati. Batterio killer nei biberon. Davvero molto allarmante questa notizia. L'indagine sulla terapia intensiva infantile. Dopo le denunce delle mamme. A Verona qui è accaduto 4 morti. 5 cerebrolesi e quasi 100 infettati dall'acqua dei Rubinetti. E poi a centropagina. Rete uniche 007. Fronda Grilina. A Conte regionali. Anche il PD accusa il Premier. Sottovaluta l'effetto di una sconfitta. Adesso vediamo la prima pagina del Sole 24 ore. Apertura Covid. Servono 30 milioni di tamponi. Per quanto riguarda invece il lavoro. Buone notizie a luglio. 85 mila posti in più. Però in 5 mesi ne sono stati persi 472 mila. Ed è l'effetto ovviamente del lockdown. Poi c'è anche un effetto Cina. Sui prezzi delle commodity. Da vedere adesso la prima di Libero. Suicidio in massa dei grillini. Questa è l'apertura. Ne rimarrà uno su tre. Il referendum per dimezzare i parlamentari. Danneggerà soprattutto chi l'ha proposto. Per i deputati Movimento 5 Stelle. Farsi rileggere sarà un'impresa. Così faranno governi con chiunque. In evidenza anche il declino della Ferrari. Il fondo è di Vittorio Feltri. Il cavalino rampante. Ora è un rozino come il Premier Conte. Quindi c'è questo accostamento. Si parla anche della Borgonzoni. Che si può picchiare. Secondo il giornale Libero. Lucia aggredita. Rom Graziata. E poi i sondaggi spaventano il PD. La Lega in Toscana è il primo partito. Vediamo adesso anche il messaggero. L'apertura positivi con sintomi evidenti. La Sardegna non li ha affermati. Dossier riservato della Regione Lasio. Arrivati 449 casi con febbre e tosse. L'assessore D'Amato dice effetto contagio. Come la partita dell'Atalanta a febbraio. E poi da Juan a scuola senza distanze. E in Italia corsi di recupero in tilt. Allora diamo uno sguardo anche ai titoli sulla prima pagina della verità. Soldi europei scatta la trappola. Rischiamo di rimanere a bocca asciutta. I commissari Borrell e Gentiloni ci avvertono che i fondi del recovery non arriveranno prima di giugno 2021. E non potranno essere spesi per tali di tasse o altro scopo che non sia stato approvato dai parlamenti del 27. Ma i progetti di Giuseppi, così chiama la verità il Premier Conte, sono in alto mare. Conte soffoca la fiducia, la rivolta grillina sui servizi segreti, fotonotizia e poi manuale per sopravvivere alla scuola di Azzolina. Febbre da provare a casa ma non conta più. Bus da riempire all'80% per 15 minuti però nessuno controllo. Banchi in ritardo. Quarantene, mascherine e ballerine. E si parla già di lezioni a distanza. Vediamo anche la prima pagina dell'Avvenire. L'apertura. Il Papa dice ripariamo la terra e rimettiamo i debiti. Sviluppo politica. Non sconti fiscali. Gentiloni mette i paletti su fondi dell'Unione Europea che ha detto non dovranno essere usati per tagliare le tasse. E poi occupazione a luglio. Segnali di ziggelo. Vediamo anche i titoli del tempo di Roma. Colpetto di Stato. C'è un monarca, non un premier. Coinvolgeremo il Parlamento. Bugia sulla proroga dello stato di emergenza. È arrivata la fiducia per mettere al sicuro dai ribelli di Cinque Stelle il blitz sugli 007. Conte calpesta ancora la democrazia. E poi a centropagina si parla della zona traffico limitato a Roma. Almeno copia i grillini. Virginia dice il giornale che il sindaco causa a Roma. E sì che per risolverlo basterebbe fare come per l'Appendino a Torino. Il mattino di Napoli. L'apertura. Andiamo a leggere. Più occupati ma non al sud. Dopo quattro mesi il lavoro è risalita. Bene le donne ma bruciati 500 mila posti. Le imprese rimbalzano e mezzogiorno non si è ancora visto. Le previsioni in calo. E poi da Los Angeles fotonotizia. La rabbia degli afroamericani. Dobbiamo ancora vedere adesso la prima pagina del manifesto. Titolo come di solito ad effetto. Arbre Macic con il presidente della Francia Macron. Vedete che sta piantando appunto un albero che a Beirut. Macron si ripresenta a Beirut. Ancora ferita dall'esplosione del 4 agosto. Dal paladino dell'ex colonia proclamata 100 anni fa. per piantare un cedro e portare nuovi aiuti in cambio di riforma. In Siria intanto Israele bombarda per ricordarli di non incontrare Hezbollah. E poi Los Angeles un altro nero ucciso. Trump nella città di Jacob Black. Cresce la protesta contro la polizia. Vediamo anche il secolo.it. L'apertura Conte spacca il Movimento 5 Stelle. Decreto Covid. Il governo pure la fiducia. Il premier lacera il Movimento 5 Stelle pur di tenere le mani sui servizi. Primo piano il PD e il Movimento 5 Stelle si schifano. Fratelli d'Italia sferza la democrazia. E poi Di Maio il comizio flop a Pomigliano diventa virale. E poi il PD sente la sconfitta e mette le mani avanti. Vediamo adesso in chiusura la gazzetta dello sport con i titoli sportivi. Appunto si parla molto ovviamente di calcio mercato. Torino Cairo 15 anni da cuore toro. Ho sempre messo amore e passione. Inizio un nuovo ciclo e vorrei dare gioia ai tifosi. E poi c'è il colpo della Juve. Suarez Juve da urlo. Clamorosa svolta nella corsa all'attaccante. L'uruguaiano ha un passo accordo trovato sull'ingaggio. Ora deve liberarsi dal Barça con CR7 di bala. È un tridente da sogno. E poi Mercatone da pazzi. Un affare tira l'altro nel nostro campionato. In arrivo grandi campioni. Inter Kolarov arriva al serbo per conte gol e carisma. Milan Brahim un altro colpo. Ora la squadra è da Champions. E con i titoli della gazzetta sportiva si chiude la rassegna stampa. E il primo appuntamento della giornata con la nostra informazione. Vi ricordo come di consueto il prossimo. Il telegiornale alle ore 14. Buona giornata. Buona giornata.